AISA Impianti ha manifestato la sua contrarietà al raddoppio dell'inceneritore di Arezzo. Si va verso lo zero spreco. Allora, l'impianto di San Zeno è cambiato nella sua natura nel 2017 perché è diventata una centrale di recupero in R1. Questo ci consente oggi di poter fare un progetto per rispondere proprio alla necessità di lavorare le raccolte differenziate di questo territorio. Quindi per chi dice raddoppio inceneritore noi rispondiamo raddoppio inceneritore no grazie, siamo i primi proprio a non volerlo perché tutto quello che sarà termovalorizzato in più proverrà solamente dalla lavorazione delle raccolte differenziate. Quindi uno scarto interno, non prendiamo certo i rifiuti di Firenze. Ci sarà un rapporto 3 a 1. Cosa voglio dire? Voglio dire che tutto il recupero di materia, quindi la lavorazione della frazione organica, la lavorazione di tutte le frazioni secche delle raccolte differenziate sarà due volte maggiore rispetto alla capacità del forno stesso che verrà incrementato con questo progetto di 15.000 tonnellate rispetto all'attuale che corrispondono al nostro fabbisogno per dare una risposta alle raccolte differenziate proprio alla valorizzazione di questi materiali. Non è un impianto a regime, non sarà un impianto alternativo alle necessità tipo di Firenze, men che meno di Prato, men che meno del Basso Valdarno. Questo è un impianto che è studiato e predisposto per le necessità di questo territorio. Le famose 198.000 tonnellate di rifiuti le abbiamo già oggi su queste strade, con la differenza che non vengono processate nella nostra centrale di recupero. Quindi vengono trasportate altrove con costi e inquinamento. La valutazione di impatto ambientale che abbiamo fatto prevede anche di valutare l'impatto dei trasporti e l'impatto è inferiore all'unità, cioè siamo sul 5 per 1000, circa lo 0,5%. Il tempo di realizzazione? Ancora noi siamo nella fase in cui abbiamo fatto solo domanda, quindi voi pensate che ci vogliono 60 giorni solo per il ricepimento delle osservazioni, dopodiché la Regione si attiverà, sicuramente i tempi sono lunghi. Noi prevediamo che ovviamente quest'anno non si faccia assolutamente nulla. Noi saremmo già contenti se a fine anno la Regione Toscana ci darà la sua valutazione. La tenere presente è che in questa fase noi non stiamo ponendo la prima pietra, stiamo richiedendo i permessi. La differenziata ad oggi, siamo sul territorio, lo sapete meglio di me, siamo sopra il 40%. Devo dire che i comuni negli ultimi mesi dai dati che noi riceviamo, dai quantitativi che stanno arrivando da noi, che si tratta soprattutto dell'organico, abbiamo trovato un incremento molto sensibile.